Questa interrogazione è sollecita da cittadini e cittadini che lamentano l'enorme difficoltà di ottenere un appuntamento per il rilascio ex novo del passaporto o anche per il semplice rinnovo. Sappiamo che l'articolo 1 della legge 1185 del 67 stabilisce che ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica valendosi di passaporto o documento equipollente e che recentemente è stata introdotta una procedura telematica che prevede di prendere appuntamento sul sito internet della Polizia di Stato tramite SPIRC o CNS. In diverse realtà territoriali del Paese questo sistema costituisce l'unica ed esclusiva modalità per il rilascio del passaporto come ad esempio per gli uffici della Questura di Cagliari, i commissariati di Quartu, Carbonia e di Iglesias. Questa procedura avrebbe dovuto accelerare le procedure ma in diverse città sono lunghissime le attese per ottenere il passaporto. Alla Questura di Cagliari, ad esempio, la mia città occorre attendere oltre sei mesi per ottenere il primo appuntamento utile e spesso occorre anche recarsi in sede differente dal Comune di Residenza. Questa situazione quindi crea disomogeneità nel territorio e limita in maniera rilevante la libertà di circolazione dei cittadini. Le chiediamo quindi quali situazioni intende attuare anche potenziando il personale addetto per risolvere questa problematica e omogenizzare la tempistica. Grazie, onorevole. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie, Presidente. Onorevoli deputati, come rappresentato anche dall'onorevole interrogante, la procedura di rilascio del passaporto avviene previo appuntamento presso la Questura Ufficio di Polizia territorialmente competente attraverso la cosiddetta agenda online, cui si accede peraltro dal sito della Polizia di Stato. Ciò premesso, per quanto riguarda la provincia di Cagliari, negli ultimi mesi si è registrato effettivamente un significativo aumento delle domande presentate nell'ordine di alcune migliaia di richieste. Le cause di tale congestione sono riferibili da una parte alla ripresa dei flussi turistici dopo l'emergenza sanitaria da Covid-19 e dall'altra all'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna, da sempre una delle mete più frequentate da nostri connazionali per motivi di lavoro, di studio o di turismo. A fronte della grande mole di richieste, gli uffici preposti hanno sempre assicurato, con la piena operatività degli sportelli, il rilascio dei documenti di Espatro in tempo utile per la partenza. In particolare, per tutto il mese di dicembre, tradizionalmente caratterizzato dall'intensificazione dei viaggi all'estero, l'ufficio passaporti della Questura di Cagliari è osservato con l'ausilio di personale attinto da altri settori delle aperture straordinarie programmate settimanalmente, provvedendo inoltre ad incrementare i posti prenotabili attraverso la menzionata agenda online. Questa soluzione organizzativa ha consentito di ricevere in front office 550 istanze in più nel solo mese di dicembre, in aggiunta a quelle programmate. La Questura di Cagliari provvederà a replicare periodicamente tale misura, armonizzando tutte le iniziative utili alla scellere definizione delle richieste, anche con il coinvolgimento dei commissariati di pubblica sicurezza, a cui gli utenti possono rivolgersi in alternativa alla Questura. In ogni caso, va evidenziato che sono state sempre soddisfatte tutte le richieste urgenti, opportunamente documentate, e che non vi sono state differenze temporali nel rilascio dei passaporti tra cittadini minorenni e maggiorenni. Oltre alle iniziative assunte a livello locale, sono in fase di attuazione in ambito nazionale, ulteriore misure organizzative di carattere migliorativo orientate alla più efficiente evasione delle richieste di passaporto, sulle quali peraltro riferirò una mia prossima risposta in questa stessa sede ad un'altra analoga interrogazione. Grazie. Quindi la nostra domanda, la domanda nella nostra interrogazione è se si intenda semplificare le procedure e se si intenda far sì che il rilascio e il rinnovo sia un processo che funzioni. Da una parte, certamente, digitalizzando non solo la richiesta di appuntamento, ma forse digitalizzando l'intero processo, come è il caso per altri documenti, e dall'altra parte pensando a potenziare il personale presente nelle questure che, come ha ricordato lei stessa, è chiaramente oberato nei periodi non solo di vacanza, ma durante tutto l'anno e a macchia di lopardo su tutto il territorio. Grazie. Grazie Onorevole. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha facoltà di rispondere. Come ho avuto già modo di esporre in precedenza, l'incremento delle richieste di rilascio del passaporto elettronico è stato determinato da una pluralità di cause, alcune contingenti, come la fine delle restrizioni post-Covid, come dicevamo, altre di carattere strutturale, come la Brexit, e ancora la difficoltà, registratasi soprattutto nei comuni più popolosi, di conseguire in tempi rapidi la carta d'identità, con la conseguenza che il passaporto viene richiesto non solo ai fini dell'espatro, ma anche per disporre di un documento di identità. Per dare un'idea dei carichi di lavoro, nel 2022 sono stati rilasciati quasi 1.816.000 passaporti con una media di oltre 151.000 passaporti al mese, un trend che non accenna a diminuire neppure nel mese corrente. Evidenzio a riguardo che quasi tutte le questure, una volta acquisita l'istanza, rispettano i tempi normativamente previsti per la conclusione del procedimento, che sono 15 giorni più altri 15 in caso di ulteriori accertamenti, quindi nella maggior parte dei casi le criticità segnalate riguardano non tanto l'emissione del passaporto, quanto la possibilità di ottenere in tempi brevi un appuntamento tramite il sistema agenda online. Al fine di superare tali inconvenienti, già dallo scorso mese di giugno, il Ministero dell'Interno ha invitato gli uffici territoriali ad adottare interventi per ridurre i tempi di attesa per la presentazione dell'istanza che si sono concretizzati nell'organizzazione dei cosiddetti open day, nell'estensione del numero di giorni di apertura degli uffici al pubblico e nell'attivazione di gruppi di lavoro di operatori dedicati. A seguito di tali iniziative in alcune province la situazione si è normalizzata, pur permanendo obiettivamente criticità nelle province più popolose, soprattutto nel nord del Paese. Al fine di migliorare ulteriormente il servizio offerto, il Ministero dell'Interno, oltre a favorire la circolarità informativa delle pratiche migliori messe in campo da talune e questure, sta realizzando interventi di reingegnerizzazione dell'applicativa agenda online per renderlo più fruibile agli utenti. Quale ulteriore ottimizzazione dei servizi è previsto entro il prossimo mese di febbraio al dispiegamento di nuove postazioni di lavoro più performanti, con la possibilità per i questori che ne ravvisino la necessità di chiederne un eventuale aumento. Prosegue infine un monitoraggio mirato a porre in essere laddove necessario interventi correttivi anche attraverso l'assegnazione di nuove unità di personale agli uffici competenti al rilascio dei passaporti. La questione che pongo questo pomeriggio non avrebbe neanche la necessità di essere illustrata, nel senso che abbiamo tutti davanti agli occhi le immagini della guerriglia svoltasi a Pagani alla vigilia del derby paganese casertana di serie D. Abbiamo avuto cinque feriti, un autobus sventrato ed incendiato, un negozio danneggiato, nove arresti di cui due tifosi della casertana rilasciati perché pare che si siano solo difesi. Ebbene, Ministro, vorrei sapere cosa intende mettere in campo per evitare che episodi del genere si ripetano e soprattutto consentire alle famiglie e ai cittadini di vivere gli stadi come in un Paese civile dovrebbe essere. Grazie, Onorevole. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie, Presidente. Il Ministro nazionale per le manifestazioni sportive aveva classificato l'incontro di calcio tra Paganese e Casertana con un livello elevato di rischio e con un insieme di prescrizioni di natura organizzativa a carattere preventivo che erano state ritenute adeguate a livello medesimo secondo i criteri di valutazione finora adottati da quel consesso. Ed infatti, venendo poi ai fatti della giornata, verso l'ora 15 di domenica scorsa con la scorta di personale delle forze di polizia uno dei due pullman della tifoseria ospite mentre si stava immettendo nella strada che conduce al settore ospiti del locale in pianto sportivo è stato oggetto di un improvviso assalto da parte di circa 70 ultras della Paganese sopraggiunti all'improvviso da una via attigua quasi tutti a volto coperto. L'attacco proditorio dei tifosi della Paganese, peraltro, è stato favorito anche dalla partecipazione di persone residenti nei palazzi circostanti che hanno concorso al lancio di oggetti contundenti dai balconi il tempestivo intervento delle forze di polizia che erano di scorta al pullman ha impedito il verificarsi di ulteriori incidenti e ulteriori danni alle persone le immediate indagini espletate dalle forze di polizia e supportate dalla visione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza hanno consentito la identificazione all'arresto di ferito operato nella serata del 23 gennaio di sette supporter della Paganese di cui cinque già sottoposti a DASPO e di due sostenitori della Casertana tutti ritenuti responsabili in concorso dei reati di lancio di materiali pericolosi e possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Gli ultrade della Paganese sono stati altresì deferiti all'autorità giudiziaria anche per i reati di rissa aggravata, danneggiamento seguito da incendio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio oltre che devastazione e saccheggio e attentato alla sicurezza dei trasporti le indagini risultano ovviamente in corso per l'identificazione di altri sostenitori delle opposte tifoserie responsabili di condotte criminose gli scontri avvenuti a Pagani di domenica così come quelli verificatesi l'8 gennaio nell'area di servizio di Badia Alpino sulla 1 tra i tifosi di Roma e Napoli confermano la necessità di agire con fermezza e di mettere a punto specifiche strategie di prevenzione e contrasto della violenza delle tifoserie organizzate a questo scopo già lo scorso 11 gennaio rappresentato anche ai vertici del mondo del calcio che stiamo lavorando su specifiche linee di indirizzo per adottare a legislazione vigente provvedimenti di rigore improntate a criteri di massima precauzione un primo concreto segnale in tal senso è stato il divieto di trasferse e di chiusura del settore ospiti per due mesi nei confronti delle tifoserie di Roma e Napoli impregiudicate le misure preventive e repressive che saranno assunte nei confronti dei singoli soggetti coinvolti all'esito delle indagini sono inoltre in corso approfondimenti ulteriori sui criteri alla base delle decisioni relative allo svolgimento degli incontri ritenuti più sensibili anche nelle serie minori proprio oggi l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive esaminerà la condotta delle due tifoserie che hanno tenuto in occasione della gara in argomento al fine di valutarne la pericolosità sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico in vista dei prossimi incontri delle società sportive con il possibile coinvolgimento del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive per l'eventuale applicazione di misure di ricore anche a carico delle due squadre chiudo evidenziando che presenzierò personalmente a una delle prossime riunioni del citato comitato per valutare l'adozione di misure di maggiore severità e precauzione in occasione dello svolgimento di tutti gli incontri Presidente, Signor Ministro la recente pagina di cronaca relativa alla cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro ha provocato non solo una forte reazione nell'opinione pubblica ma anche rianceso riflettori sull'importanza dell'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale evidenziando come la costante capillare presenza dello Stato nei centri urbani sia ormai necessaria al fine di contrastare i gravi episodi riconducibili proprio alla criminalità organizzata e nonostante gli strumenti normativi di cui la nostra nazione si è dotata nel tempo l'impegno contro la mafia e i poteri criminali non è certo concluso la mafia purtroppo è ancora straordinariamente pericolosa è capace di adattarsi colpendo il tessuto vivo del Paese soprattutto insinuandosi negli affari e nelle società essendo caratterizzata da una peculiarità che la distingue da tutte le altre connotandosi come forza antistato e per questo risulta sempre più avvertita l'esigenza di una riflessione sul concetto di sicurezza soprattutto per quanto riguarda i centri urbani ricordiamo che la cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro è stata resa possibile dall'attuazione del noto metodo dalla Chiesa e quindi la risposta più incisiva che si può dare per contrastare la territorialità delle grandi organizzazioni mafiose è il rafforzamento della capacità di controllo del territorio pertanto signor Ministro le chiediamo quale iniziative per quanto di competenza il Governo intenda adottare al fine di potenziare ulteriormente l'attività di controllo sul territorio esercitata dalle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata Grazie Onorevole il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere Prego Ministro Grazie Presidente consentitemi innanzitutto di rinnovare anche in questa sede ai magistrati, ai carabinieri, a tutte le donne e gli uomini delle forze di polizia la gratitudine mia personale del Governo per l'arresto del latitante Matteo Messina Denaro e per il difficile, tenace e silenzioso lavoro dei rappresentanti dello Stato che hanno portato avanti le indagini oggi culminate in un esito così rilevante un primo elemento reso evidente dalla lunghissima latitanza e dalla rete di complicità di cui ha beneficiato il BOS è sicuramente la persistente capacità intimidatoria del vincolo mafioso sul territorio a questo persistente e tradizionale tratto caratteristico delle organizzazioni mafiose nell'età della globalizzazione dei mercati e della tecnofinanza e si aggiunge anche la capacità di mimetizzazione ed infiltrazione nell'economia legale resa possibile da una zona grigia fatta di professionisti ed esperti che facilitano la vocazione imprenditoriale delle mafie con proiezioni transnazionali a fronte della complessa configurazione di tale modus operandi la strategia di risposta dello Stato si è andata affinando nel tempo sia mediante una specifica cornice normativa sia attraverso l'elaborazione di tecniche investigative e metodi operativi sotto il primo furrillo l'Italia vanta un insieme di strumenti d'avanguardia che costituisce un modello di riferimento a livello internazionale fondato sull'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati secondo le intuizioni ancora oggi attualissime di Giovanni Falcone d'altro canto le nostre forze dell'ordine esprimono uno straordinario livello di professionalità la cui componente essenziale è costituita da metodiche investigative maturate nel tempo ed imperniate sulla conoscenza ed analisi del territorio nonché sulla capacità di lettura dei dati che ne emergono accanto all'incessante affinamento delle nostre capacità investigative legato anche all'evoluzione della tecnologia è indispensabile insistere sulla presenza fisica delle forze dell'ordine sul territorio e dunque sul rafforzamento di organici e dei presidi in questo senso il governo pur nella difficile congiuntura economica ha dato un primo concreto segnale di attenzione per gli apparati di sicurezza istituendo con l'ultima legge di bilancio un fondo per le assuzioni delle forze di polizia oltre che dei vigili del fuoco con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno in corso 95 per ciascuno degli anni 2004 e 2025 ed ulteriori somme progressivamente incrementate negli anni fino a superare i 125 milioni di anni a decorrere dal 2033 si è trattato di un risultato non affatto scontato che ci consente di affrontare il lavoro dei prossimi anni con fiducia l'arresto di Messina Denaro rappresenta indubbiamente un risultato storico e ciò ci spinge ad agire con ancora maggiore determinazione nella lotta alle mafie che non dimentichiamola tutt'oggi rappresentano un pesante fattore di sottosviluppo dal punto di vista economico non meno che sociale e culturale quindi è fermo intendimento del governo continuare ad investire in legalità e sicurezza nella persuasione che l'una e l'altra siano fondamentali condizioni per il benessere e la crescita civile della nazione grazie